qualche notte fa dei ragazzi sono entrati dalla via di fuga sul monte moscale all'interno della base e non hanno potuto accedere all'interno della base perché è tutto un'area video sorvegliata si sono introdotti spostando una griglia e poi una corda a doppia fune si sono calati all'interno nel condotto di aereazione spostando tutto quello che sono i ventilatori che c'erano in uso quando la base era in funzione e da lì hanno potuto accedere attraverso un cumicolo laterale al condotto che portava alla via di fuga momento in cui hanno sono entrati nel condotto è partito tutto il sistema di allarme e di video sorveglianza quello che mi preme far passare come messaggio è che questi ragazzi per una bravata hanno messo a rischio la propria vita perché si sono calati di notte il cunicolo che era molto stretto e pericoloso se succedeva qualcosa li avremmo trovati sicuramente dopo qualche giorno con le registrazioni video ho provveduto a denunciarli immediatamente grazie